Ciao a tutti oggi leggerò su Paul Henry Spock nato nel 1899 scompasso nel 1972 prigioniero dei tedeschi durante la prima guerra mondiale il ministro degli esteri belga in esilio durante la seconda guerra mondiale come altri grandi pionieri della unione europea anche Paul Henry Spock fu testimoni degli orrori del secolo più sanguinoso dell'Europa dopo la devastazione della seconda guerra mondiale Spock vide nella collaborazione economica e politica la opportunità per ricostruire l'Europa mentre si trovava in esilio a Londra durante la guerra insieme ai suoi colleghi dei Paesi Bassi e del Lussemburgo Spock lavorò a un progetto estremamente ambizioso una unione doganale tra Belgio Paesi Bassi e Lussemburgo nel 1944 il progetto si concretisò con la nascita della unione doganale del Benelux che avrebbe garantito la libera circolazione di denaro persone bene i servizi scusi entri i confini dei tre stati e avrebbe poi ispirato le fasi successiva della integrazione europea secondo Spock unire gli stati permesso di obblighi vincolanti derivanti da un trattato era il mese più efficienti per garantire pace e stabilità obiettivi al quale contribuì in qualità di Presidente della prima Assemblea plenaria delle Nazioni Unite 1946 e nel ruolo di segretario generale della Nato 1957-1961. Durante la conferenza di Messina dei leader europei tenutasi nel 1955 i tre Paesi del Benelux elaborarono una proposta per la creazione di un mercato comune di un mercato comune e la integrazione dei settori di trasporto e di energia atomica. Il rapporto SPAC formò la base della conferenza intergovernativa sul mercato comune e la Euratom del 1956 i portò ai trattati di Roma siglati il 25 marzo 1957 che istituirono la comunità economica europea e la comunità europea dell'energia atomica nel 1958. SPAC firmò il trattato in rappresentanza del Belgio. Allora di questo passaggio effettivamente ho poco da aggiungere perché richiama tutto quello che è già stato comunque letto nei precedenti. La importanza del bene, nel lux, i rapporti con la Nato, gli accordi economici, l'uso, non l'uso, gli accordi per l'utilizzazione dell'energia nucleare. Quindi ribadisco solo quello che già è stato detto e ripetuto. ogni personaggio che si conosce si evinci la loro preoccupazione di stabilire parametri che possono legare le nazioni di modo ad evitare un contesto di guerra, garantire una stabilità economica, sociale e anche andare avanti con il progresso scientifico. Alla prossima!